Ciao amici, oggi sono con Lorenzo Ciao Lorenzo, è una malattia seriosa e vi spiegherò tutto quanto anni hai? 42 e lavorai con il computer? Sì, tutto Lavora molto con il computer e che cosa è successo? Da quanto tempo stai così? Circa un mese, circa un mese Ok, quindi un mese che stai fermato in questa postura che stai bloccato in questa condizione Non muovete troppo, non preoccupate Guarda, questo è un'importante un'hypercaifosi e abbiamo una compressione sulla cervicale Sì, è molto importante Ho già testato tutte le arasi X e anche la resonanza magnetica Abbiamo una piccola protrusione sulla dorsale ma è importante una hernia sulla cervicale Quindi, questa è una compensazione probabilmente questa è una compensazione del tuo corpo all'ernia cervicale e all'ernia che poi è molto piccola quella è più una protrusione dorsale Comunque tu sei bloccato così da un mese Stando seduto, certo, ti sei ritrovato così? Lavorando al computer Ok, e muovendo le mani così hai fastidi? Sempre posso Solo sulla parte del palazzo Ok Hai mai avuto importanti interventi chirurgici o forti trauma in passato? No Niente di importante Ok, allora abbiamo già visto tutti gli esami e direi di partire subito It's not easy to approach Lorenzo because it's very difficult to make this kind of techniques if we modify all the curve Quindi dovrò probabilmente, visto che non potrò accedere da questa entrata cambiare molto le posizioni di Lorenzo anche se dolorosamente per poi riuscire a bloccare i punti E' la prima volta che fai questo tipo di trattamento? Si, però appunto ce la faccio più Ok, allora è la prima volta Don't worry, fai fare tutto a me tranquillo Aspetta, devo solo un attimo controllare C'è difficoltà a muovertisi perché è completamente rigida Ok, it's impossible to move the neck Allora, tu prova un attimo a rilassarti Lascia le gambe se ce la fai ferme così, ok? Try to relax, don't worry Ok, don't worry It's absolutely stopped Ok, I will lead you Ti guido io, tu lasciati cadere Ti muoverò io gradatamente Lo so che fa male in questo punto Piano piano Bravo, ti guido io No, 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 non ti sto forzando Tu rilassati, bravo Perfetto Cerca di rilassarti Bravo Bravissimo Ti guido io Fa molto male, vero? Piano piano Rilassati Prova ad abbandonare un pochino le spalle No, è rimasto uguale Fermo così Faccio io Tranquillo Bravo Morbido, morbido Non ti spaventare Rilassati Bravo Più rilassato che puoi Morbido, morbido Bravo, rilassa, rilassa Ah! Perfetto Ci siamo? È difficile We got it Take a moment to rest Ok? È un giorno difficile oggi Questo è il solo modo L'unico modo Piano piano Abbiamo già usato L'area più importante Abbiamo usato 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 All the compression Via Vode Nerve Questa è una tecnica Che va fatta immediatamente Su una zona acuto Ormai cronica Dove appunto Abbiamo liberato il nervo E piano piano Andrà a rilassarsi il tutto Con calma Questa era la parte Più difficile Abbiamo esordito con questo Quindi Welcome to the To the club Lui ha iniziato direttamente Con le cose più complesse Però sei stato bravissima Ci sei? Ok Ok È tutto molto più semplice adesso Andiamo con calma Bravo Io qua riesco Guarda 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 You can see? I can move Much more Much more And then I need to treat To treat The other side I need to check the compensation Abbiamo sempre un compenso Da questo lato Si è ridotto il dolore vero Già sulla parte sinistra Riesco anche a respirare meglio Poi faremo la parte più bassa Adesso sto solo cercando di Entrare Perché ovviamente La situazione è complessa Bravo Più rilassato che puoi Questo è più semplice Tranquillo Bravo Morbido morbido Bravo Vedi che adesso ho più Entrata Rilassati Bravissimo Morbido Bravo Molto più semplice Questo era il compenso Ci sono Esatto Ora il problema è Ora il problema è Ora il problema è Il problema è L'approach L'hypercatalosis Ci siamo? Si si Bene Questo è prima Sembra un miracolo Piano 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 Pieghiamoci in avanti Bend forward Piegati in avanti con calma Quello che puoi Quello che puoi Ok Come va? Cominci a tirare Basta 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 Ok Vieni su con calma Bene Bene Con cautela Ci mettiamo a pancia In su Ce la fai? Ce la fai con calma? Ok Come preferisci tu eh? Esatto io Fai il best way to lay down If you need my help I'm here Ok Devo per forza Legare il cuscino Fermo così Bene Rimani un attimo così eh Aspetta un secondino Tra poco ci mettiamo Se ce la fai A pancia In su Però Per farti muovere Ah fermo Per farti muovere il meno possibile Sfrutto questa posizione già In this case It's very important To Move as As less as possible The The patient Because It's In painful Condition So I will try to Treat Starting from this other Posture Relax Relax Don't worry Don't worry I will not work on the dorsal area Don't worry Don't worry Don't worry Ok Ok Lascia cadere Bravo Benissimo Piano piano tranquillo Bravo Lascia cadere le gambe Adesso abbandonato con le gambe Drop your legs Bravo Tranquillo Non cadi Non cadi Abbandonato Bravo Tranquillo Questa è la paura Tutto bene? Eh Insomma Non so tanto la paura Ok Aspettiamo Aspettiamo Bravo Dai Sei stato bravo Ok Per me va bene Il problema è che da qua non riesco a intervenire No It's impossible to Approach from here So I really need You Lying on the back Piano piano a pancia in su Fai con calma I need an assistant Here someone available Piano Ok Ok We're ready to continue I called Adriano Because I need your help As you can see I'm Double the Yeah the pillow The pillow Yes Because We need to work on the A several hypercaposis And I already worked on the Cervical spine Ok Let's try to approach Don't worry Relax Ok Adriano Yeah Let's No Let's leave the We leave the The pillow The pillow But be careful Don't worry Don't worry Don't worry Don't worry Don't worry No 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 wait 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 Allora we will start from here I know it's painful But now you need to relax as much as possible Ok E piega tutte le tue le gambe Grazie Bend both legs Aiutalo dietro tu In appoggio In appoggio In appoggio Bravo Se ce la fai mettiti in appoggio Bravissimo Stai teso lo so Piano 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 Rilassati Lascia fare a me Lascia fare a me Bravissimo Adesso prova a rilassarti Bravo Break Inspira Exhale Bravissimo Morbido Morbido Oh Bravo Ci sei? Piano Rilassati Oh Bene Ci siamo Pausa E adesso iniziave il fulcro proprio proprio lo sta al centro Crediamo di farlo bene diretti Bravo Bravo Renzo Ok Dobbiamo per forza approcciarlo subito Aspetta tu lo qualche secondo E poi lavoriamo sulla seconda per ridurre la tensione sul spancho Ma prima di ridurre la ultima tecnica sul dorso Ci siamo eh Manca l'ultima tecnica sul dorso Ce la fai? Si Vado? Con calma Tieni un ottimo con le gambe che mi segui Attenzione aspetta Aspetta che qua siamo sul punto quello fondamentale Ecco qua Allora io ce la faccio Eh Aspetta Devi resistere un attimo È istantaneo ok? Tu rilassati Ok Allora piano piano Adesso con calma Ti tiro su io la testa che tu non ce la fai fermo Adriano lascia le gambe Tira io su Poggiate Bravo Ok adesso vieni qua E seguimi subito con il seguimi con il cuscino Io Io ci sono Aspettami Rilassati Morbido Morbido Lascia di cadere Rilassato Bravo Bravo Oh Morbido Se ce la fate in morbido Oh Oh Ok Ah Fatto Ah 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 Ce l'abbiamo fatta Ah Ce l'abbiamo fatta Miracolo Miracolo Non sento più dolore Già meglio? Subito? Ok Aspetta un pochino rimani rilassato eh Proviamo a fare una cosa Aspetta Let's try to do something Relax eh I help you Don't 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 Drop your head We need to reduce a little Extension But it's ok And we are starting to release all the tension of the dorsal and we are going well E ce la facciamo a girarci a pancia in giù con molta calma Ok? Piano 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 Andrà molto meglio sulla parte dorsale Però devi fare con calma Ok If you need help we are here Ok Andiamo in qualche seconda Dopo Pause Grazie a la break Look at the The head C'era mai stato questa girata di fianco no? No Da almeno un mese It's the first time he turns the head on the side and the cheek is absolutely Metta contact on the coach No This is perfect And just check Is there? C'è fastidio? No? No Un po' andolo in situ Andolo in situ Tu rilassati Tanto ormai è fatto Qua abbiamo già fatto Tu rilassati Morbido Rilassati Bravo Senza paura Senza paura Senza paura Senza paura Morbido Ok Ok Basta Ci siamo Qua non serve Io farei una cosa Se tu riesci a carriere la tensione Io provo a entrare di nuovo sulla cerniera Se no Aspettiamo un attimo Alla mia massima fiducia Vai Sì sì grazie So With the hyperkyphosis We have the blue one is the dorsal area We have this right here We already reduce the curve And the problem is that we have an extension of the cervical spine In this case we already reduce also the consequence The problem is that among all these vertebra we have this spinal cord with an important stiffness And as always I will approach the sacrum to decrease So we reduce all the tension and stiffness on the spinal cord So you will see moving the head of Lorenzo Andremo praticamente Poi tu puoi andare lo spiego in italiano Quando siamo partiti siamo partiti da una condizione di percifosi di questo genere Completamente ridotta già Anche se ancora c'è del lavoro da fare Mentre invece sulla parte cervicale C'era un'estensione che man mano abbiamo già ridotto Quindi parte azzurra dorsale Parte cervicale in violetto In questo caso Adriano che ha più forza di me Mi sta aiutando a ridurre il sacro E con questa tensione vedete che cosa succede? C'è un rimbalzo praticamente della testa Perchè stiamo tirando tutto il minollo spinale In tutto il concetto di dura madre Per poi calare la pressione dell'ernia Tanto cervicale e della contusione Che abbiamo purtroppo a centro dorso Che è abbastanza problematica Ma abbiamo già avuto Quindi siamo a un passo dalla risoluzione Però abbiamo ancora dei dettagli importanti Che non sono proprio dei dettagli No, qui è perfetto Dai, già ce l'ho Se ce la fai ancora con un piccolo thrust finale Sì sì sì, meglio Bravo Se riesce a chiuderla è fatta Ok, thank you È perfetto Proviamo Proviamo Let's try Good This technique Was impossible 10 minuti ago And now Carefully And gently We turn the head Yes On the other cheek Are you ok? Ci siamo Lorenzo? Ok Perfetto Ok Relax a moment Yes We got it Now We are ready Lorenzo Con molta calma Se preferisci Puoi anche tornare Prima seduto E poi traiato Oppure ti giri a pancia in su Come preferisci tu Perché ci abbiamo fatto Andiamo Piano 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 Con calma Aspetta un secondino Guarda davanti E ti potrete gire la testa Un po' di risultato Un po' di risultato Per questo caso Guarda davanti Grazie Ci siamo? Si Calma calma che c'è tempo Sta andando bene Dai sai che è andata bene È un mese che non... Dai dai tranquillo Riprenditi Guarda un attimo davanti È normale È normale È normale È normale È normale È normale Ok Vedi Ci riesci Questa volta Riesci a... Ti doi giusto un aiutino Giustamente Ancora Ancora In fase È molto differente No? Fantastico Vedi ci riesci? Ah Questa volta Riesci a... Ti doi giusto un aiutino Giustamente Siamo ancora in fase di recupero Si Mettiamo un attimo We are using just one pillow Don't move too much Don't be too... Too much skin For the... The treatment Non troppo entusiasmo Calma Che siamo ancora Sistemandoci Sono rinato Calma calma che stiamo andando bene You can see the... You are using just one pillow We are reducing the extension of the head And the... Ibrachyrosis In this case That was a... Important compensation of the back It's absolutely solid Aspettiamo un pochino Io volevo controllare Visto che... Dobbiamo lavorare anche sulla parte costale Just the ribs I give a look at the ribs Tieni dietro il collo Bravo Bellissimo E rilassati Facciamo con calma Morbido 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 Rilassati Bravo Morbido Benissimo Ci sei? Si si Con calma Approfitto di quest'altra tecnica E siamo Indirittura d'arrivo Bravo Lasciati cadere Morbido 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 Bravo Ci sei? Si Bene I will ask to Adriano To prepare the patient For a breathing exercise Because we need now to Join this new condition And open our chest Breathing as much as possible And we will do this for one week Maximum Ok Ok I'm ready Let me check Yes I can do it Ok relax No no Stay with me Because I'm not sure I can use I can stay with the pillow Let's check Rilassati Adesso Lascia fare a me Morbido Morbido Bravo Morbido 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 Rilassati più che puoi Bravissimo Morbido Bravo Ok Ci siamo? Tutto bene? Tutto bene Perfetto 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 Voglio controllare solo piano Solo se ci la facciamo Ok Ok Se riesco a A sblocarlo da sblocarlo Abbiamo finito Però ho paura che se si rilassa Vai con pressione Ok Eh I need just one technique more Dove fare un'ultima cosa Ma ho paura che non riesci a sopportarlo da seduto Vediamo un attimo Aspetta Vediamo se riusciamo ad entrare da qua Forse ci riesco ad ancora Proviamo un attimo Rilassato Morbido Morbido Niente Vieni di nuovo Adriano Di nuovo con il cuscino Si? Che sta comunque in estensione C'è una piccola versione che non riesco ad due Lascia morbido Bravo Più rilassato che puoi Morbido 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 Bravo Yes Ok We got it We got it We got it Stop Take a moment to rest We got it Inspirazione Inspirazione Pressione in busto Adesso lasciamo riposare perché l'estattamento è sulla doppiazza ampissima Ok Let's try to sit Mettiamoci un attimino seduti da questo lato Aiutano un attimino Adriano Piano 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 Ce la fai? Ho preso? Si si Ho ripreso tutto Piano piano Moda la gamba Aspettiamo un secondo Sì adesso dovremo noi ad aprire maggiormente la gabbia dracica Adesso vedi che Ok ci siamo? E' un miracolo No no E' un miracolo Seduto E adesso impiedi Vai Piano piano Riprendiamoci Poi Con calma Sia Tirare sulla testa adesso Sia Aprire più che poi Qua You can Extend the head The head At the same time You can see We reduce All the Compensation Non ho più dolore Da 1 a 10 il dolore quant'è? Zero Zero Ok Eh Vabbè Siamo contenti I expected I'm surprised I asked What's the What's the Scale Between 0 and 10 Oh 0 The rate of the pain Around 5 Because it was very inflamed He said 0 Ok Ok Good possible Ci siamo? Mhm I would like to show Vieni Bea Facciamati un attimo la curva Perché questa è importantissima Ci sei? Look Because it was stocked here inside This is an important fulcrum That Mi passi un attimo la colma This fulcrum Close All the curva And then We started with This condition And now It stays in a normal condition But The most important thing We reduce This Extension Of the Cervical Where he has an important Ernia In this case We Make the Important Decompression Of the Ernia And we Have an important relief Because we Make free Finally The nerve And the Spinal cord Ci siamo Fai una piccola passeggiatina Così vediamo come è andata Molto bene Mi riesci a respirare meglio? Riesco a A muovermi A vedere La mia difficoltà Proviamo anche a stare un po' seduto di Vieni Sediamoci un attimo Let's sit Stai un po' seduto E prova a poggiare un attimo Vai bene dietro col bacino Ho un po' ancora di timore Perché dopo un mese E poggia la schiena La puoi poggiare adesso? Sì sì Bravo Ho paura Un mese Ma Tu sei distratto in questo momento Ma stai parlando Girando diverso di me Quindi Vuol dire che Il dolore non c'è Senza esagerare Diamo un attimo di recupero Ma va benissimo Ehm It's everything ok No no This is my I want it with you Ok ci siamo? Sì Bene Io direi Facciamo un saluto Let's say goodbye to our friends So Jeremy Do this Now you can lift up your hand So you can do this 3 2 1 Bye bye our friends Ciao 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 Grazie a tutti.